Oggi abbiamo tenuto questo sopralluogo importante all'isola della Colombaia qui a Trapani insieme alla sovrintendenza di Trapani, al direttore generale dei beni culturali ma anche con la Capitaneria di Porto e con l'autorità del sistema portuale della Sicilia occidentale perché è intenzione della regione recuperare questo luogo e farlo in armonia con il territorio, con questo bellissimo paesaggio che il Castello della Colombaia ci consegna. Ecco, il tema del paesaggio e il tema del recupero di questo luogo sono al centro della politica della regione siciliana.